In saluto dal Tg della mobilità, la linea tram 19 al momento è attiva solo nella tratta Largo Preneste, Piazza del Risorgimento e viceversa. Tra Largo Preneste e Piazza dei Gerani invece può essere utilizzata la linea 5. Nella tratta Largo Preneste via Bresadola c'è anche la linea 14. La ragione della limitazione della 19 è dovuta ad attività di preparazione del deposito Porta Maggiore in previsione del cantiere di adeguamento dell'impianto per la realizzazione di estesi lavori di rinnovo. A proposito della linea tram cittadina, da ricordare che per lavori di rinnovo dei binari la linea 8 dallo scorso luglio è integralmente sostituita da bus. Bus anche su parte del percorso della linea 3 tra la stazione Trastevere e Porta Maggiore. Tra Porta Maggiore e Valle Giulia invece la 3 resta su tram. E' tutto, appuntamento alla prossima edizione.